Allora, Salvatore Buzzi, domenica 12 dicembre ci sarà un evento culturale molto interessante che si svolgerà presso la Casa Comunale. Possiamo spiegare ai telespettatori di Cilento Channel di cosa si tratta e perché essere presenti? Beh, si tratta di un convegno di studi sul risorgimento che avrà come redatore il professor Pinto dell'Università di Salerno, il professor Tranchesi dell'Annunziatella e l'avvocato Pierfrancesco del Mercato che tra l'altro è discendente di alcuni patrioti che hanno partecipato pressoché a tutti i moti risorgimentali. È un'occasione per riflettere, per iniziare a riflettere forse sul contributo che il Cilento ha dato al risorgimento né in un'ottica revisionistica né in un'ottica, come devo dire, autocelebrativa del risorgimento come quella a cui siamo abituati sui libri di scuola, ma soprattutto assolutamente non un'ottica di pancia che è quella che abbiamo visto nei tentativi di rilettura del risorgimento, che abbiamo visto più o meno sui social anche a proposito di alcune figure come Carlo Pisacane, eccetera. Forse è il caso di riflettere e di approfondire. A noi piace approfondire, indipendentemente da quella che può essere una verità scomoda o incomoda o comoda. Questa è l'ottica in cui anche si inserisce in questa organizzazione l'Istituto Nazionale per la Guardia di Onore delle Reali Tombe del Panteon, che nacque intorno al 1870 come Comizio dei Veterani, proprio da parte di coloro che avevano vissuto le guerre di indipendenza e che avevano spinto verso un'Italia più libera, più liberale, più unita, che è forse quello di cui abbiamo bisogno tutti quanti in questo momento di fronte a tante spinte disgregatrici. Allora vale la pena forse di riflettere e di riflettere con relatori autorevoli, quali quelli che ho poc'anzi citato. Voglio ringraziare anche per la sensibilità manifestata l'amministrazione comunale di Agropoli che ci ha messo a disposizione la sala del Consiglio Comunale e che ci rivolgerà a un indirizzo di saluto. Salvatore, questo anche per continuare a fare cultura nel periodo invernale, con un evento del genere e soprattutto per promuovere la cultura nel territorio. Ma certamente, una cultura che si radica profondamente nella nostra storia, perché piaccia o non piaccia il Cilento è stato protagonista del risorgimento, protagonista dell'unità italiana, anche se oggi c'è qualcuno che tende forse a disconoscerne la portata o comunque a dare anche sotto questo profilo delle riletture. Forse è il caso, ecco, invece di riflettere. Questo potrebbe essere il primo nella nostra idea di una serie di incontri che potremmo tenere a Dio piacendo anche nel 2022, pandemia permettendo, perché noi non ci siamo fermati con gli eventi culturali, però capirete che una cosa è fare un evento in modalità webinar e una cosa è fare un evento in presenza, che credo sia più bello, più dinamico, più coinvolgente, meno social e più sociale, che forse quello di cui realmente abbiamo bisogno.